Buongiorno a tutti, raga, Lorenzo Ventivoglio dalla Contea Mezzaluna e non penso ci sia felicità più genuina, ragazzi. Dopo mesi e mesi finalmente piove e piove abbastanza bene, ok? Questo che cosa comporta? Tutte le piante prenderanno tutti i gas disciolti all'interno della nostra atmosfera che la pioggia porterà nel nostro terreno e verranno assorbiti dalle piante. L'acqua di irrigazione, ragazzi, non è mai come l'acqua piovana, ok? Non solo, il nostro raghetto si umidificherà per bene anche sulle sponde e se questo non bastasse, i nostri sacchi di iuta verranno schiacciati bene a terra per ottimizzare la loro azione pacciamante. Se volete sapere altre informazioni e rimanere aggiornati sulle croniche della Contea iscrivetevi qua sotto, vi faccio vedere che bellezza. Bella.